Buongiorno ragazzi, sono Giacomo di diventeromillionaire.it e si riprendiamo a dare qualche aggiornamento perché effettivamente nei giorni scorsi ho iniziato a ricevere, in realtà dalle settimane scorse ho iniziato a ricevere molte mail di richiesta interessata riguardo al corso di Pentimalli devo dire che ho creato molto hype sul gruppo Telegram, ma devo dire che ragazzi è stata una cosa che proprio mi ha svoltato e tuttora continuo a svoltarmi la vita, quindi ho detto beh sai cosa faccio un episodio del podcast e aggiorno su questo aspetto qua e anche su un altro paio di aspetti che effettivamente ci stava, era ora di dare una rinfrescata perché siamo ormai a tre mesi mi sa dall'ultimo episodio e già sento un po' di difficoltà nello sbiascicare parole sensate una di fianco all'altra quindi cerchiamo di riprendere presto la dignità di podcaster e andiamo a parlare del corso di Pentimalli perché ragazzi è stata una cosa incredibile, allora come volevo rispondere in realtà c'è stata una mail in particolare di un ragazzo che mi ha scritto, mi aveva già contattato tempo fa e mi ha detto guarda se riesci, se è possibile dammi qualche informazione sul corso di Pentimalli perché sono curioso, ovviamente sì, non darmi informazioni per le quali hai pagato ma darmi qualche dritta ho fatto molta fatica, ho fatto molta fatica a pensare a come rispondergli quindi non ti ho risposto non perché me la stessi tirando ma perché effettivamente non avevo proprio idea di come fare a risponderti e in realtà rispondere neanche a tutti gli altri quindi ci hanno preso un po' di tempo e ho detto ok come devo fare, cosa posso comunicare perché effettivamente è stata una figata incredibile però non è successo niente che io possa dirvi non perché sia stata una cosa che c'è segreto ho firmato un NDA quindi non posso dire niente a nessuno no no no, è semplicemente perché è stata un'esperienza, sono stati due giorni e mezzo è stata un'esperienza di vita incredibile cioè mi ha cambiato la vita proprio ma sinceramente non è che sto dicendo palle e è questa cosa qua proprio che voglio andare a narrarvi oggi perché dire quello che è successo non avrebbe senso dire come mi ha cambiato la vita e ragazzi quello cazzo lo sì che si può fare anzi devo farlo per me, per voi e soprattutto per ringraziare il signor Pentimalli che mi ha svoltato perché magari l'anno prossimo qualcuno di voi andrà grazie a me e sono ben contento io ci tornerò di sicuro quindi se qualcuno vorrà aggregarsi ben venga ma andiamo per ordine perché non voglio divagare troppo voglio stare concentrato, breve ma coinciso e cosa è successo? è successo che, stati due giorni e mezzo uno potrebbe essere definito come classiche domande tipo come ti vedi fra cinque anni come perché non lo sai quali sono le tue paure come ti vedevi da bambino, secondo te come sei come persona eccetera eccetera però fatte in un modo che tu rispondevi e dopo andando avanti nel corso continuiamo a vedere il perché di quelle domande poi tornavi a leggerle e poi ci capivi sempre di più alla fine ti svoltavano poi alla fine ha fatto anche un processo chiamato allineamento quantico che in teoria doveva dare dei risultati incredibili ho detto guardate ragazzi voi probabilmente non sentirete niente però nelle prossime settimane tutto andrà a velocità accelerata cioè raggiungerete risultati che sono incredibili che ci sarebbero voluti i mesi per raggiungere e con un claim del genere tu cosa pensi? pensi vabbè cioè sto qua ha fatto un corso bello bellissimo ha fatto l'allineamento del cervello quantico bellissimo però alla fine non lo so non lo so vediamo vediamo come va io in realtà ero gasatissimo perché mi ha preso tantissimo però dall'essere gasatissimo motivato al vedere i risultati ce ne passa comunque sono andato veramente con il cuore e la mente aperta sicché finisco il corso e con la volontà anche di abbandonare un po' il blog non il blog di diventare un blog cioè di spingermi anche il lato SEO stavo giusto pensando mi sarebbe piaciuto collaborare con un altro blog perché no? magari qualcuno vuole fare un altro blog io devo dire che sto acquisendo sempre più competenze lato SEO perché voi non mi sentite più da me in questi mesi sto studiando sto scrivendo articoli sto migliorando sempre di più il blog ma su questi numeri vi vado ad aggiornare fra un po' comunque ragazzi e che non sto scherzando perché può sembrare una sparata di Giacomo monto in macchina parto per tornare a casa da Riccione tempo mezz'ora che esco dalla città in autostrada chiamo mia moglie e mia moglie mi fa oh guarda che ah bene bene il corso bene guarda che sono andato in farmacia a prendere una roba e il farmacista che è il mio amico mi ha detto ma tuo marito fa ancora siti web che nessuno mi ha saputo che facessi siti web aveva questa informazione non so da chi perché mi piacerebbe molto rifare il sito della farmacia farlo diventare più trovabile più fruibile e aggiungerci un e-commerce perché dove sono adesso non mi trovo bene quindi se ha voglia di farci due chiacchiere dimmi che ne parliamo e c'è mezz'ora dopo vaffanculo mezz'ora dopo il fatto il corso finito lui che diceva tutto potremmo andare a velocità accelerata è stata una cosa assurda c'è neanche a sognarsela va bene però diceva bene questa cosa tra l'altro penso che andrò a farci due chiacchiere so che sono passate già due settimane ma ho intenzione di andare a farci due chiacchiere ma adesso ho la mente dall'altra parte adesso vi vado a dire il perché perché cosa è successo giorno dopo faccio legna con mio papà sposto un po' di legna poi mi riposo un attimo tiro fuori il telefono guardo i guadagni di un sito di affiliazioni le tiro fuori 500 euro ok quindi cioè da un giorno all'altro 500 euro di guadagni di affiliazioni vaffanculo ragazzi cioè questa cosa unita a quella del giorno precedente ma soprattutto questa cosa che mi ha fatto dire no vabbè dai Italo cosa cosa cazzo mi hai fatto cosa hai combinato alla mia vita no ed è stata una figata incredibile perché poi nei giorni successivi si sono non so se si è sbloccato cosa una affiliazione da 100 euro quindi ho iniziato a fare guadagni da 100 euro non dico ogni giorno ma 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 spesso purtroppo è ora fine mese quindi non ho superato i guadagni di 1000 euro se è quello che vi state chiedendo sono arrivato a 950 euro però devo dire che è un risultato abbastanza vicino ai 1000 per potermi permettere di di riprendere a fare questo episodio del podcast so che avevo promesso che sei tornato a 1000 euro ma siamo a 950 ragazzi purtroppo l'ultima settimana non è andata come mi aspettavo però comunque sono qua che gongolo tantissimo e quindi benissimo così poi andando avanti con con i giorni con le settimane in realtà non c'è stato nulla di di evolutivo a livello di guadagni perché alla fine quelli sono poi ogni tanto arriva qualcosa c'è stato il botto però quello che in realtà ho visto e che mi ha testimoniato anche mia moglie è stato un cambiamento assurdo mio personale cioè mia moglie mi fa guardare che sei molto più cioè ti vedo molto più più sbatti è stata la sua definizione cioè più tranquillo nel senso sono tranquillissimo adesso me ne foto di tutto so che raggiungerò il mio obiettivo anzi sento che lo sto già raggiungendo sento che è già qui e questa tranquillità veramente mi fa vivere la vita proprio bene cioè adesso per dirvi vi anticipo anche questa cosa qua per essere tranquilli per essere tranquilli a livello proprio di so che quello che sto facendo va bene so che gli obiettivi li raggiungerò ma anche so che quello che voglio fare posso farlo senza il giudizio di nessuno tipo adesso sono seduto su una panchina in mezzo a un prato che sto registrando questo podcast e la cosa figa è stata che mi sono andato a fare una camminata qua attorno volevo registrare questo podcast già da qualche giorno ho visto sta panchina e ho detto potrei andarla a registrarla ma no dai come si fa sempre ma no dai lo farò un altro giorno in realtà non lo fai più ho detto sai cosa apportamento qua non l'avrei mai avuto ragazzi prima del corso di Pinti Malli che ci crediate o no sono tornato totalmente un'altra persona ma veramente anche a livello di tranquillità di vedere le cose adesso sto avendo un sacco di idee che sto pian piano implementando e sono delle delle bombe poi a parte quello numeri parliamo di numeri perché quelli sono inequivocabili come avete già visto siete sul gruppo telegram abbiamo superato i centomila i centomila i centomila ascolti del podcast e non pubblicavo da tre mesi quindi questo è un risultato incredibile e già adesso dopo due tre giorni mi pare siamo già a centomila ascolti quindi andiamo avanti di mille ascolti ogni tre giorni che è una cosa impensabile infatti bellissima mi piace proprio un sacco poi a livello di visite del sito eravamo fermi a 12-13 adesso stiamo per arrivare a 20.000 20.000 utenti al mese ragazzi e questo cosa mi porta a pensare mi porta a pensare che effettivamente adesso ragazzi le affiliazioni e le collaborazioni diventano una cosa molto 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 divertente perché fidatevi che quando arrivi già dai 15 si inizia a vedere ma quando arrivi a 20 beh è un gioco è un gioco fighissimo perché è abbastanza numeri abbastanza utenti abbastanza potere diciamo da poter chiedere collaborazioni in altre aziende o da poter da poter anche far numeri perché alla fine se tu se mille persone arrivano su una pagina di affiliazione è ovvio che fai più conversioni di quando ti arrivano 10 persone quindi è inequivocabile che guadagni ovviamente di più quindi questa cosa è bella poi appunto la sto prendendo molto 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 più più serenamente cioè non è che sto a dire oh no devo fare conversione questa dico ok questa funziona questa non funziona questa la testo posso mandare una newsletter veramente tranquillissimo mi sto godendo molto 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 di più la vita a livello proprio spensierato e questo appunto è un aggiornamento che volevo darvi perché è il riassunto di queste mie settimane dopo aver fatto il corso di pentimalli che è stata una cosa incredibile ragazzi incredibile e a parte questo cosa aggiungere aggiungo che le ultime interviste sono state una figata se non l'avete ascoltato c'è qua sul podcast c'è l'intervista su come funziona il web 3 con Silvio Lucchetti e potete anche iscrivervi al master anche la master di web 3 ci sono dentro sei mesi di corso per diventare un esperto di web 3 fantastico fatta ci sono I'm in proprio eccomi là e potete unirvi anche voi se volete i posti stanno per finire credo ce ne sono ancora in ogni caso se andate su diventeromilionario.it slash web 3 trovate tutto quello che vi interessa tutte le informazioni e potete usare il codice diventeromilionario10 quindi diventeromilionario10 per avere un 10% di sconto che sono parecchi soldi e soprattutto se volete incontrarci perché io adesso ho iniziato a muovermi e non mi fermo più se volete incontrarci possiamo vederci alla blockchain rom week a Roma il 10 e 11 maggio che è un incontro fantastico dove ci sono persone come Giacomo Zucco poi anche Luca Boiardi che è Crypto Gateway e Tiziano Tridico eccetera eccetera scusate ho fatto un segmento perché sono all'aperto quindi ho avuto un imprevisto dicevo il blockchain rom week sono due giorni di corsi quindi due giorni di spizze potete andare su blockchain rom week il sito e anche lì se comprate un biglietto usando il codice sconto diventerò milionario10 quindi diventerò milionario10 avete il 10% di sconto su qualsiasi biglietto vogliate comprare io ho quello del summit quindi vuol dire che sarò a Roma il 10 e l'11 maggio e arrivo il giorno prima vado via il giorno dopo mi sa sì sì e buon così così avanti così ragazzi comunque vi lascio tutti i link in descrizione sapete che secondo me c'è la formazione conoscere capire imparare è fondamentale quindi blockchain rom week imperdibile anche perché è un costo veramente bassissimo e ultima cosa che probabilmente non ci sono più posti però ve la dico lo stesso perché è una cosa che farò e non so fra quanto ci risentiremo il 10 giugno sarò a Milano per il classico summit di investiro adesso credo che i posti siano finiti e dura solo un giorno sto anno però se siete interessati magari scrivete sul gruppo telegram vedo se riesco a farvi avere un biglietto perché so che stanno finendo ma si possono portare persone conoscenti anche se non siete in club quindi se per caso vi interessa fatemi sapere il costo è abbastanza ridicolo anche là mi sembra che siano 90 100 euro adesso non lo so non so neanche se sono più posti però se siete interessati scrivete magari se se l'universo vuole che veniate verrete quindi fate un po' come volete ragazzi comunque vi lascio tutti i link in descrizione e spettacolo veramente bellissimo così sono contento anche di avervi dato questo aggiornamento perché perché di sì è proprio ragazzi quando sono uscito dal corso ho detto che figata è la vita ma quanto bella è la vita e basta quanto bella è la vita ragazzi la vita è bellissima buona giornata ciao ciao